Stanno per arrivare le agevolazioni per chi decide di ristrutturare casa nei centri storici. È pronto infatti il bando della Regione per accedere ai contributi. Per questa operazione sono stati impiegati 2 milioni e mezzo di euro, con i quali la Regione coprirà gli interessi sui mutui. Il bando, predisposto dal Dipartimento dell'Infrastruttura e Mobilità, è stato pubblicato sul sito della Regione. Si attende invece la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Solo dal giorno successivo alla pubblicazione sarà possibile presentare le istanze. Sarà inoltre accertata la regolarità delle domande e della documentazione presentata, secondo l'ordine di arrivo e fino al raggiungimento della somma stanziata. Requisito indispensabile è che gli immobili ad uso residenziale ricadano nei centri storici. Obiettivo esplicitato anche dal bando è quello di valorizzare il patrimonio edilizio, ridurre il degrado ambientale e la desertificazione urbana e al contempo dare respiro all'economia locale. Tra le opere ammesse al finanziamento rientrano interventi di restauro e risanamento conservativo, di ripristino funzionale, di manutenzione straordinaria per l'adeumamento alle normative antisismiche. Il contributo concesso, grazie ad una convenzione tra Regione e Unicredit, servirà a coprire il costo degli interessi sui mutui ventennali, il cui importo massimo è di 300.000 euro, da rimborsare attraverso rate semestrali. Nel caso in cui il finanziamento superasse questo importo, il costo degli interessi sarà a carico del richiedente. Le istanze devono essere redatte esclusivamente sui moduli allegati al bando e scaricabili dal sito internet della Regione. Il Dipartimento, una volta esaminata l'istanza e avendone accertato l'ammissibilità, emane il provvedimento. Entro 150 giorni il beneficiario ammesso all'egegolazione deve quindi stipulare il mutuo con l'istituto di credito convenzionato e darne comunicazione alla Regione. I lavori dovranno iniziare entro l'anno.